Ivan Gerskovich è il primo caso dalla guerra fredda di un giornalista americano arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio. Nell'attesa di conoscere se la detenzione del giornalista del Wall Street Journal sia stata coordinata con la leadership russa, la Casa Bianca ne chiede l'immediato rilascio. Uno shock che ha sollevato lo sdegno da altre parti dell'Occidente. Su Twitter l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri ha insistito sulla necessità per i giornalisti di esercitare liberamente la loro professione e di ricevere protezione. Critiche anche dalle Nazioni Unite. Si fa spazio all'ipotesi che l'arresto del giornalista sia una ritorsione alla recente cattura negli Stati Uniti di un cittadino russo. Una portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha affermato che quelle del reporter americano non possono essere definite attività giornalistiche.